La 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 I quattro arzilli vecchietti sono sottosfratto dal comune di Tanago Non sono in condizioni di autosufficienza Tutte cose che non tornano È lui non autosufficiente Ma qui È bello, è bello stare così Ciao fans Un ragazzo che ritrova i suoi genitori dopo 30 anni Potrebbero anche chiuderci la porta in faccia Le Iene Martedì in prima serata su Italia 1